palazzo di burro mmm burro livello 1 e più che burro a me sembra roccia ok cioè io ti ammazzo il world of d boh ecco ecco sto già a morire qua c'è qualcosa no no a parte sto giallo a me non mi pare poco te burro ok sembra un labirinto che non è un labirinto però boss una sveglia vabbè vabbè si poteva intuire urla allora urliamo no no urla penso che c'è ancora però sembra così illuminato che sembra che sembra così illuminato che sembra che vado giù ok non so se sto facendo bene o qualcosa altro sì ho fatto decisamente bene extra porta bianca senza stella mi riporta qua ah no c'è un altro che non avrò più perché è finito il level panamanana sarebbe bello farci un remake perfetto ho appena sprecato qualcosa di molto importante sarebbe bello perché alla fine è neanche un gioco tanto lungo quindi ci metti neanche un mese a svilupparlo circa un livello dura dieci minuti ci sono tipo quanti dieci livelli non so neanche non ho mai giocato a questo gioco lama la vabbè ciao magari con anche più cose da fare vabbè addio eh grazie uh roccia perfetto non so neanche come ho fatto però io devo andare avanti senza morire cosa sto facendo quel coso spada no roccia mi piace dire con la c ehm come ok mi serve la spada e a febbraio esce anche il remake di Sarventure Wii non so se comprarmelo 60 euro per un gioco che già ho sembra un'ottima eh molto conveniente cioè alla fine per chi non ce la magari conviene c'è gente che lo compra anche se ce l'ha ma io non trovo vattene via no vi il mio maxintometro come dovrei prenderlo fare mmm boh fare come ma scusa questa è la vita a ghiaccio è quella che avevo tipo lo scorso episodio che vita era perché di me e basta te sei la vita al lancio e so chi sei posso congelare i nemici e buttargli no al massimo sto morendo sono morto e ho una vita mi lanci quei cosi per favore grazie non so se hanno un'abilità però io non vorrei ingogliarmi lì magari mi ammazzano pure dai lancia grazie ie lancia 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 no è lui che si lancia contro di me ma qui non c'è l'abilità lancia mi sa di no ah si chiama schianto non lancio perché non schianto non lo so però è bella e sembra abita al lottatore di solito abita al lancio che chiamo così perché si è blu mentre abita al lottatore è rossa e faccio schifo a questo minigioco l'ho fatto solo una volta prima che schifo ok quei cosi non mi ricordo neanche come si chiamano però posso lanciarmi superk e l'ho appena uccisa vabbè addio abilità magari perché dovevano mettere attacchette prima a vita era meglio a quest'ora ero non dico full però tutto questo questa porta come si è creata fire anzi non è meteora meglio levati levati dove vado io vado in ordine ma è il labirinto ma sono andato qua mi sono leggermente perso vado di qua e c'è il max intometro buono poi andiamo dove di qua provo l'ultima porta si magari adesso è due purtroppo va così la vita perfetto level number 4 si la vuo perfetto e abbiamo finito e abbiamo finito il livello invece no allora meglio sensabilità con l'abita è anche più difficile no sputo piglio te e sputo piglio piglio te e chi ha già sputà a te a te vabbè vabbè sei morto comunque spada assiste no in che gioco allora ho evitato la morte in che gioco salto non so se spammare oppure mi sa che è uguale vado avanti a te mi sa che c'è il ghiaccio e il gelo allora perchè sembra ancora mezzo invincibile ah perchè ero mezzo invincibile muori 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 abbiamo preso la vita martello ed è è sempre stata la vita più forte del gioco cioè non del gioco dei giochi girby in generale allora ma non era a tempo qui che c'è niente ci sta dai riuscirò a fare un 1 ta na na let's go livello 6 e c'è anche da chiederlo laser laser paraparapapapapapapapapapapapapapa ok hanno preso io non ho cliccato nulla no amori ma posso fare così è bellissimo rimbalza da tutte le parti forse faccio vado perfetto non devo andare non era abbastanza perfetto quillis a vabbè ci sta diretta no non potrei neanche stare detto ammazzo non potrei neanche stare sulle prime scale porta sì no 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 perfetto perfetto volare qui che c'è lo sapevo forse tempo anche il pulsante extra potrei anche non prendere vabbè anzi no è ritornata fine livello perché così neon e perché no no cool mi dà luce non so se si può usare solo una volta ma intanto io prendo la spada perché l'ama non mi piace super k no super k voglio super k non compare da girbis ed è un peccato dove vado e vabbè stavo per dire ho evitato la morte e non sono molto però uno di noi ok siamo dal bo qui il gioco usa questa stella per passare tra i livelli sono a livelli a ma è tipo una cosa dei mondi io posso andare direttamente al ok sono contro sole luna forse devo colpire cosa sta facendo il signor lunatic muori muori no sto muori sto muorendo io lo sapevo ho fatto una a me a me a sparami qualcosa sparami qualco ok il signor lunatic è inutile ma è meglio se mi stavo zitto mi serve un'abilità dove la prendo io un'abilità posso andare nel livello qualsiasi uscire vabbè vado in questo la prima abita che trovo la prendo abita spada perfetto posso uscire sì perfetto e andiamo dal boss quink quink è morto quink 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 ed è morto era troppo basso era troppo basso quink